Maria Gabriella Strino si ascrive alla sfida per il comune di Omenia. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore. La docente dell'Istituto Comprensivo Filippo Maria Beltrami di Omenia sarà capo di una coalizione composta da due liste civiche, Omenia Bene Comune e Per Omenia. Strino si va ad aggiungere a Maurizio Frisone, Paolo Marchioni e Mauro Empolesi. I due gruppi che sostengono la candidatura a sindaco degli insegnanti sono già attivi da parecchi mesi a questa parte sotto forma di comitati. Si sono occupati di alcune spinose tematiche, criticando in più occasioni l'operato dell'amministrazione comunale. Non hanno condiviso i contenuti e le procedure della giunta a Mellano, esprimendo tutto il proprio disappunto circa i progetti relativi alla Madonna del Popolo e al Borgo della Comunità. Inoltre avevano assunto posizioni opposte rispetto a quelle del sindaco e del Partito Democratico sulla chiusura notturna del punto di primo intervento dell'ospedale Madonna del Popolo. Proprio per queste motivazioni c'è stato un graduale ma progressivo allontanamento dal Partito Democratico. Siamo una forza politica assolutamente civica, assicura Strino, e non rappresentiamo nessun partito. Non avendo connotati di questo genere, lavoreremo in favore della città come abbiamo fatto in questi mesi. Era da tempo che si attendeva la notizia ufficiale e alla fine Omenia Benecomune e per Omenia hanno scelto una quota rosa. Gabriella Strino, da anni, attenta alle vicende politiche locali e culturali della città di Gianni Rodari.